Sì, sono Giuseppe, ho scoperto il pin sulla tavola direttiva e è molto pericoloso per Emma. Entendete? Riesel? Mi ha attaccato! Il pin sulla tavola di tavola in la tavola. Ho scoperto il pin sulla tavola di tavola in la tavola. E' pericoloso per Emma. Riesel? Ma lo capisci? Ho dimenticato sul comodino degli spilli nella camera da letto e dovresti toglierli. Ho scoperto sul mio piccolo tavola in la tavola il pin e è pericoloso. Tu devi... Come si dice buttare? Trash. Tu devi mettere in il trash. Trash. Ok? Ok. Bye bye. Bye bye. Ah sì, grazie. Grazie di cosa. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie.